Cercasi strutture per accogliere le persone fragili che devono rimanere in isolamento. Dopo il primo bando emesso un mese fa, la TS dell'Abrianza ci riprova. In quest'ora ha pubblicato due manifestazioni di interesse relative a progetti collegati all'assistenza per l'emergenza Covid. I provvedimenti sono stati adottati in attuazione a quanto previsto dalla delibera regionale di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza. L'obiettivo è quello di individuare soluzioni per consentire l'accoglienza e l'isolamento di persone, in alternativa al domicilio, raccogliendo manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti diversi, titolare di strutture alberghiere o di altra soluzione di ospitalità sul territorio, compresi appartamenti. Non solo, ma una seconda ricerca è inerente a proposte progettuali per le persone fragili posti in isolamento e ha la finalità di valutare soluzioni per permettere l'accoglienza e l'isolamento di persone fragili attraverso una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti diversi, titolari di strutture, servizi sociali o sociosanitarie. La scadenza degli avvisi è prevista per le 12 del 23 ottobre 2020. La candidatura è da inviare unitamente alla documentazione richiesta alla casella PEC, protocollo chiocciola PEC.ats-brianza.it. Sulla questione intanto interviene il segretario della Will FPL dell'Ario Massimo Coppia. Apprendiamo che la TS Brianza cerca alberghi per far alloggiare pazienti Covid-19 positivi per evitare i contagi ai familiari, dice. Richiesta che noi avevamo presentato in pieno lockdown. Infatti, negli incontri svolti, chiedevamo fortissimamente una cabina di regia. Lo scopo era proprio quello di fare rete sul territorio lecchese con tutti gli attori istituzionali per aiutare i pazienti positivi che non necessitavano di un ricovero ospedaliero. Allora avevamo ragione noi e l'idea era percorribile. Dispiace constatare il ritardo. La questione poteva essere meglio gestita anche con l'aiuto del sindacato confederale della Will FPL dell'Ario.